Se la sua barba è irritante, la cosa migliore che sa fare con le mani è giocare ai videogames, e il suo armadio sembra una bancarella dell'usato, è il momento di capire che maschio hai! Vai sulla pagina Facebook di Real Time e scopri a quale categoria appartiene il tuo uomo. Stai tranquilla, puoi ancora salvarlo! Con Enzo Miccio e il suo nuovo programma L'eleganza del maschio, da lunedì 13 maggio su Real Time.